Ci rende infelici pensare che troppo spesso l'onore arriva tardi. Per questo è importante la memoria, il passaggio di mano in mano, di pugno in pugno, non del ricordo, ma del valore, del senso dell'eurogesta e dei loro sacrifici. Giacomina, Aurora, Valentina, Dorina, Amelia e migliaia di donne che hanno scelto di fare la differenza, stando dalla parte del giusto. Ognuna di noi glielo deve, mantenere il ricordo non basta. Gli si deve l'impegno, l'onestà, la scelta. Come dice Giacomina, le donne sono state le prime partigiane. Noi altri, volendo o non volendo, subiamo tutto quello che succede nella nostra storia, nel nostro vivere giorno per giorno. Cioè non è che uno possa estragliarsi e dire io me ne sto da una parte e non voglio interessarmi di niente. E' gli altri che ti vengono a cercare. Ma non ci pensavo che fosse pericoloso o meno. Ero talmente convinta della giustezza, di quello che facevo. E' anche che era arrivato il momento per cui io non dovevo solo ascoltare, ma dovevo anche a dire. L'umanità di noi donne è un crimine resisterà superando il limite. La libertà è necessità. Non ho scelto l'oppressione di chi uccide la nazione, di chi ci ha gettati a terra. E non sceglierò la guerra, ma resistere è l'offese. Io lo scelgo. E' il paese che riboglio. Non ho scelto l'oppressione di chi uccide la nazione, di chi ci ha gettati a terra. E non sceglierò la guerra, ma resistere è l'offese. Io lo scelgo ed è il paese che riboglio. Pensavamo già a quello che avremmo voluto dopo la guerra. Eravamo giovani e pensavamo veramente che potevamo avere la situazione in mano se ci preparavamo. Non può l'eroe se da solo vincere la storia è verità del vivere. Si lotterà ed è necessità. Siamo donne di sicuro, lavoriamo sempre duro. E' il presente di noi tutte, ma vogliamo anche il futuro. Siamo donne coraggiose per il pane, per le rose, con orgoglio. Siamo donne di sicuro, lavoriamo sempre duro. E' il presente di noi tutte, ma vogliamo anche il futuro. Siamo donne coraggiose per il pane, per le rose, con orgoglio. Ehi, ehi, ehi. Ehi, 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 ehi. Non è utopia quella che ci guiderà, ma c'è un'idea nelle scarpe di chi va al mondo nuovo. Ed è necessità. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi. Ehi, ehi. 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 Ehi.